Perché capitano tutte a me? Sì, ci sono già entrata, quella mi ha cacciato via. Se mi fai uno sconto sui vestiti va bene. Cosa dicono questi dentro la grotta? Si chiama grotta di... Non sarebbe normale se non ce ne fossero già gli acci. Come dicevo, perché capitano tutte a me? Sarebbe carino fare un attimo doppio. Eccellente. We win. Vote come siete meglio. Non lo so, ci stavamo cercando di arrivare. L'uscita. Hmm. E' guarda. Non lo so, ci stavamo. Non lo so, ci stavamo. Non lo so. Questo sembra un negozio di ferramente. Grazie.